buongiorno buona domenica scusate questa faccia e queste occhiaie praticamente senza trucco con due borse che non sarà un vlog, sarà un vlog horror stamattina, prima o poi dovete anche conoscervi senza trucco, vi volevo salutare, auguravi una buona domenica, oggi niente male perché è brutto tempo, quindi non si fa niente, si rimane a casa e da qui ci siamo, comunque la possibilità di rilassarsi, cioè si sta freschi e ora vi mostro il tempo di oggi, vedete è nuvoloso, nel frattempo stai sui panni, non c'è vento sperando che si asciughino, ma penso di sì che si asciugherà quando la notte, se ve lo state domandando abito in paese e quindi se senti questo rumore in sottofondo sono delle tortorelle che tutte le mattine alle 5 si svegliano e non ci fanno più dormire, detto ciò, vi saluto e al prossimo vlog perché ho intenzione di fare anche non solo delle video ricette ma anche alcuni vlog, quindi sicuramente vi partecipi della mia vita, se vi fa piacere e fatemi sapere se potete vedere qualche vlog o di ciò che faccio durante il giorno, commentate sotto questo video e decidetemi insieme sulla farsi, ciao!